vogliamo risolvere questo problema la differenza di due segmenti misura 25 centimetri calcola la misura dei due segmenti sapendo che il primo è il triplo del secondo la prima cosa che dobbiamo fare è disegnare i due segmenti quali sono le informazioni fondamentali che ci da questo problema sono che il primo è il triplo del secondo quindi il primo sarà molto più grande rispetto al secondo e se io li voglio disegnare usando i quadretti per esempio il secondo lo farò di un quadretto il primo di tre viene troppo piccolo d'accordo allora farò il secondo di due il primo lo farò il triplo allora di 6 2 4 6 ok ho disegnato i nostri due segmenti ora gli devo dare il nome agli estremi questo lo chiamo a questo lo chiamo b questo lo chiamerò c questo di se questi due quadretti sono le nostre unità di misura vuol dire che ab e tre unità di misura 3 u cd è una unità di misura una unità ora posso scrivere i dati dati la differenza di due segmenti quindi a differenza cosa è la sottrazione del più grande ab meno il più piccolo cd è 25 centimetri calcola la misura dei due segmenti quindi io cerco quanto è ab e quanto è cd uguale punto interrogativo sapendo il primo ab è il triplo del secondo quindi tre volte cd questi sono i miei dati ora puoi iniziare lo svolgimento del problema io però per svolgerlo bisogna guardi cosa mi dice il problema cosa mi dice che io conosco quanto è la differenza fra i due segmenti ma allora io la differenza la posso conoscere in quadretti in unità di misura no quanto è la differenza in unità di misura se il primo è 3 e il secondo è 1 io la differenza ab meno cd basta che faccia la differenza fra il più grande tre unità meno il più piccolo una unità cioè due unità ma allora se questa è la differenza cioè ci sono due unità di differenza e sono queste due io so che quelle due unità misurano 25 centimetri allora io cosa posso trovare in questo modo che una unità misura 25 diviso 2 uguale 12,5 centimetri ma un'unità chi è? è cd e allora ho già trovato la misura di cd che è 12,5 centimetri a b mi dice tre unità quindi come faccio a trovarlo? ho due strade o moltiplico 12,5 per 3 oppure sommo questo questo ha la differenza che è due unità però ora ho che questo è 12,5 quindi cosa posso fare? posso fare 12,5 per 3 uguale 3 per 5 15 scrivo 5 e porto 1 3 per 2 6 1 che portavo 7 3 per 1 3 37,5 centimetri e con questo ho le mie due risposte al problema che andavo cercando per l'altro per l'altro per l'altro